Benvenuti, gentili delle spettatori, ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo subito con alcune brevi notizie di cronaca. Non riesce a leggere e scrivere in italiano, ma ha un attestato di frequenza ad un corso di lingua italiana rilasciato da un istituto della provincia di Macerata per ottenere il permesso di soggiorno. Quando però i carabinieri gli hanno chiesto di compilare alcuni documenti, non è stato in grado di leggere e neanche scrivere una sola parola. Indagate e rinviate a giudizio tre donne, una cinese e due italiane, rispettivamente docente e dirigente della scuola. Dalla stessa certificazione risultava che, tra l'altro, la donna aveva seguito le lezioni quando in realtà era nel suo paese di origine. Lo hanno accertato i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Macerata a seguito di indagini, avviate dai militari di Civitanova dopo una denuncia che segnalava la presenza di una lavoratrice irregolare in un'attività commerciale. La cinese era stata assunta con un contratto part-time, come ha detto alle pulizie, in un ristorante italiano di Civitanova. In realtà veniva impiegata quotidianamente presso una parrucchieria cinese, sempre a Civitanova Marche. Durante gli approfondimenti la donna ha esibito un attestato di frequenza ad un corso di conoscenza di lingua italiana rilasciato da un istituto scolastico della provincia, ma una volta convocata in caserma non è riuscita, come detto, a compilare alcun modulo. Un 54enne è precipitato dalla balconata di un colombario all'interno del cimitero di Iesi facendo un volo di almeno tre o quattro metri. L'uomo è stato notato riverso a terra da altre persone che si trovavano nei pressi a salutare i propri cari ed immediatamente sono scattati i soccorsi. I sanitari hanno subito riscontrato ferita la schiena dal volto, disponendo il trasferimento a torrette in codice rosso. E cambiamo ora argomento, si è tenuta a Castelfidardo l'ottavo congresso regionale dell'Adconsum, l'associazione consumatori, costituita ad Ancona nel 1987 e convenzionata con la CISL. Francesco Varagona è il nuovo presidente. Vicini alle persone per dare voce e diritti è lo slogan dell'ottavo congresso regionale di Adconsum Marche che si è tenuto oggi al Class Hotel di Castelfidardo e che ha eletto come nuovo presidente regionale Francesco Varagona. I consumatori, come tutti noi, siamo provati da tutto quello che è successo, la pandemia, adesso la guerra, i rincari, i rincari dei prezzi del carburante, i rincari di tutti i costi dell'energia. Sono provati e alcuni, soprattutto i più fragili, stanno facendo difficoltà anche a sostenere il peso e quindi stanno cercando attraverso anche le associazioni di poter accedere a delle rateizzazioni per poter in qualche modo pagare in più tempo, ma soprattutto noi stiamo cercando di aiutare le persone a essere consumatori consapevoli attraverso la formazione, attraverso l'educazione a un consumo responsabile e consapevole, cerchiamo di renderli capace di potersi autotutelare e quindi di sapere come risparmiare, come scegliere i partner che siano più economici, come evitare le truffe di operatori e aziende che stanno sfruttando questo momento di difficoltà per proporre dei contratti che sono ai limiti del lecito, sono costosissimi e truffando le persone promettendo cose che dopo non mantengono. Intanto per quanto riguarda l'energia cercare di consumare bene, meno, perché dobbiamo capire che siamo in una difficoltà e dobbiamo cercare per quanto possibile di risparmiare che non significa di non godere degli stessi servizi, ma di farli in maniera più intelligente e più consapevole. Quindi noi invitiamo le persone in qualche modo a utilizzare quei comportamenti che consentono dei risparmi, quali possono essere quelli di non lasciare le prese attaccate anche quando non sono collegati i cellulari, le televisioni che rimangono accese in stato di sospensione e tutti gli elettronomestici che vengono lasciati in queste situazioni. Ma li aiutiamo soprattutto a leggere la bolletta, a cercare di capire quali sono i costi reali dell'energia, a sapersi orientare nel mercato, a saper scegliere e non farsi condizionare da operatori che cercano di sfruttare questo momento di difficoltà per propri interessi a scapito della convenienza degli utenti. Noi consigliamo di non concludere contratti telefonici, ma di farsi mandare dagli operatori tutta la documentazione. Questa documentazione noi siamo aperti ad aiutare i consumatori a leggerla insieme, per aiutare a capire quali sono le effettive esigenze del consumatore, perché non tutti abbiamo le stesse esigenze, ma anche quali sono i punti di debolezza del contratto stesso, le possibili sorprese che spesso sono scritte in modo molto piccolo, ma sono quelle che impattano dopo sul costo reale del contratto. Allora, innanzitutto noi crediamo che si debba intervenire, come dicevo, sugli oneri generali di sistema, perché alcune cose non c'entrano nulla con i costi energetici. Secondo, bisogna fare un mercato europeo dell'energia, perché un solo paese da solo non ce la fa. Noi poi siamo il paese più debole, perché dal punto di vista della nostra fonte primaria utilizziamo gas quasi al 50%, e quindi dobbiamo svingolarci in qualche maniera e fare una programmazione energetica di tipo diverso. La terza questione riguarda, come diciamo, il caricarburante, perché sia sulla bolletta che sui carburanti creavano una serie di accisi e oneri impropri che non hanno nulla a che vedere con quello che poi viene pagato dal consumatore. Interporto è una infrastruttura intermodale fondamentale su cui la Regione punta per lo sviluppo delle marche, ha detto in una nota il Presidente Francesco Acquaroli. In coerenza con questa visione strategica fin dall'inizio della nuova legislatura, la Regione ha investito per il suo rilancio. È del maggio 2021 ad esempio la decisione dell'esecutivo di destinare ben 8 milioni di euro per consentire il piano di risanamento di Interporto. Per chiudere questa complessa operazione deve esserci l'accordo tra le parti, ma occorre che questo avvenga nel pieno e rigoroso rispetto della legge senza mettere a rischio il capitale di Interporto da eventuali danni. Un vizio di legittimità o un'eventuale ingerenza esterna impropria nella trattativa in corso rischierebbero di minare la legittimità dell'eventuale accordo con la conseguenza finale di precludere l'effettivo insediamento del lab logistico che invece tutti auspichiamo. Gli strumenti Simest a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese marchigiane a Mondolfo Focus su finanziamenti agevolati e nuova operatività del PNRR. Vediamo. E' stato siglato un accordo di collaborazione tra la Regione Marche e Simest, la società del gruppo Cassa Depositi e Presiti che sostiene finanziariamente l'export e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare delle piccole e medie imprese. L'intesa, firmata da Mirko Carloni, vicepresidente della Regione Marche e assessore alle attività produttive, è da Mauro Alfonso, amministratore delegato di Simest, all'obiettivo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese marchigiane attraverso gli strumenti finanziari offerti dalla società del gruppo CDP. I termini dell'accordo e le sue implicazioni sono state presentate agli imprenditori locali nel comune di Mondolfo all'interno di un'azienda leader di settore, la Sodico. In questo momento in cui c'è una parte dei mercati esteri che si sta fermando per le ragioni della guerra e delle sanzioni, ancora di più dobbiamo stare a fianco alle imprese per aiutarle a diversificare i loro mercati. Abbiamo fatto con la Camera di Commercio una scelta che è quella di aumentare la quota di contributo per le fiere da farsi a almeno 4.000 euro a salire su tutte le fiere in Italia e all'estero. Inoltre abbiamo previsto 15 milioni di euro di sostegni in questo momento per la diversificazione, tra cui una parte proprio dedicata alla diversificazione dei mercati. Quindi la ricerca di nuovi mercati anche con strumenti tecnologici oppure creando dei temporary shop o dei sistemi anche consulenziali per poter entrare su mercati nuovi. Sostenere le imprese significa avere una visione anche a breve termine che consenta di non rimanere fermi magari con i magazzini pieni. In questa fase l'aiuto che ci può venire dal sistema dell'esportazione italiana come Simest, come Sace o come Cassa Depositi e Prestiti con cui noi abbiamo fatto un accordo. Oggi siamo proprio qui grazie ad un accordo fatto con Simest che è una società partecipata di Cassa Depositi e Prestiti che mette a disposizione degli strumenti veri a sostegno delle imprese. E quindi questa è declinata nel concreto una di quelle opportunità che la nostra regione, grazie a un protocollo d'intesa firmato tra me e l'amministratore delegato della Simest, tra l'altro incontrato in aereo in un viaggio all'estero, è nata per poter dare un sostegno sistemico ai nostri imprenditori. Il quadro che vogliamo illustrare in primo luogo parte dall'accordo appena firmato fra Simest e la regione perché c'è l'intenzione di sostenere in un momento senza ombra di dubbio difficile che pensavamo tendesse a migliorare ma ovviamente si è complicato ulteriormente quindi a maggior ragione crediamo che l'accordo di cui poi oggi parleremo serva a portare sui territori e nelle realtà industriali che sono obiettivamente un'eccellenza da sempre nel Made in Italy a maggior ragione in un momento difficile la vicinanza anche finanziaria e di supporto professionale sia nostro come gruppo Cassa Depositi e Prestiti sia ovviamente la regione con le sue strutture quindi parleremo delle opportunità che hanno le aziende di promuovere i loro prodotti verso l'internazionalizzazione attraverso i sistemi fieristici anche italiani, attraverso l'e-commerce che rimane la seconda gamba oggi di quello che è il mercato internazionale ma soprattutto per la prima volta, come meglio dirà la collega l'avvocato Severi in sede di relazione, la possibilità di arricchire l'azienda italiana che vuole approcciare sì mesi ai mercati internazionali con dei finanziamenti e dei contributi importanti per la transizione digitale perché riteniamo che un'azienda che sia fortemente competitiva in casa abbia anche le condizioni migliori per poter competere sui mercati internazionali in un contesto che è drammaticamente difficile Si svolgerà martedì prossimo, 29 marzo, a partire dalle ore 10 la seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche per la giornata Carlo Urbani istituito con la legge numero 42 approvata nell'agosto del 2020 l'appuntamento è dedicato al medico di Castelplagno che riuscì ad identificare la SARS malattia al centro dell'epidemia esplosa in Estremo Oriente e di cui rimase vittima il 29 marzo del 2003 E parliamo ora di sport ed in particolare di calce e di nazionali non si sono spenti ovviamente le polemiche e la delusione per l'eliminazione dai mondiali della squadra di Roberto Mancini Ascoli però giovedì ha gratificato con una bellissima cornice di pubblico al Del Duca la squadra Under 20 di Mister Bollini che ha pareggiato uno a uno il suo confronto con la Germania l'Italia di Roberto Mancini esce dalla possibilità di andare al mondiale perdendo 1-0 nei minuti di recupero contro la Macedonia del Nord Bocche cucite in casa azzurra per quanto riguarda la nazionale Under 20 ospite ancora dalla città Picena pareggio invece per gli azzurrini contro la Germania nel torneo 8 nazioni tanta adrenalina al campo del Duca quasi 4.000 i presenti nelle due tribune aperte appunto per ospitare questa gara 1-1 come vi dicevo il punteggio finale abbiamo ascoltato il mister Alberto Bollini che si dichiara ovviamente soddisfatto dell'accoglienza della città e del pubblico ieri presente al Cino e l'Illo del Duca Benissimo nell'accoglienza c'è da ringraziare veramente l'amministrazione comunale l'ascolicalcio che ci ha dotato del centro sportivo, la ristorazione veramente una piazza incantevole, un clima molto bello che sposa bene i valori dello sport con quelli anche della cultura e proprio del fascino di una città come Ascoli Peccato il risultato, quel pareggio contro la Germania è una partita dominata è arrivato questo vantaggio, non siamo riusciti in doppia superiore da numerica a battere l'avversario che non riusciamo a superare nel torneo 8 nazioni però che cornice? Cornice di pubblico bellissima, si vede che Ascoli ha passione per il calcio ha passione per la maglia azzurra sempre è stata una città che ha un forte connubio con il calcio, la squadra, il club e in questo caso anche con la nazionale è stata una grande risposta il nostro pareggio può avere un rammarico nel risultato ma quello che noi vogliamo per la crescita dei nostri giovani per la cultura proprio che abbiamo al club Italia è condurre la partita, cercare di far gioco arrivare al risultato attraverso il gioco io penso che abbiamo centrato tutti gli obiettivi non siano stati fortunatissimi e forse non siano stati spregiudicati proprio sotto porta ma quando una squadra crea più di 10 occasioni da rete ha il possesso palla, ha il dominio contro una squadra così forte come la Germania sia a livello fisico, sia nella cultura sia nei valori anche individuali personalmente mi ritengo soddisfatto soddisfatto del comportamento dei ragazzi del lavoro che stiamo facendo con lo staff e ricordo che nel basket di Serie A la Carpegna e Prosciutto Pesaro scenderà in campo domenica alle 19.30 per affrontare alla Vitri Frigo Arena la Germani Brescia un confronto sulla carta proibitivo per i biancorossi contro una squadra reduce addirittura da 11 vittorie consecutive ci sono comunque buone sensazioni nel gruppo di coach Luca Banchi reduce dalla vittoria di Varese che comunque nelle ultime prestazioni ha sempre offerto prove di buon livello è davvero tutto per il nostro telegiornale grazie per la cortesa attenzione buon fine settimana